È stata una partita tirata, palla palla punto punto, la squadra di Roma voleva ben figurare contro i nostri ragazzi che sono primi in classifica e veramente hanno fatto un partitone e a questo aggiungo che la classifica non dice nulla perché hanno dimostrato questi di Roma di fare veramente una partita eccezionale ma i nostri hanno giocato veramente bene, hanno fatto un bel lavoro tutti, anche i campi ragazzi sono entrati da fuori e veramente sono contento perché siamo riusciti in una situazione molto negativa a tirare fuori la squadra per la vittoria quindi sono contento e faccio i complimenti a tutti i ragazzi.